Capradossi una bella partita, hai avuto l'elogi del mister, è una partita che coincise oltre che con la tua bella prestazione anche con un risultato positivo. Siamo contentissimi, siamo riusciti a vincere, questa partita era molto importante, ci siamo compattati, abbiamo dimostrato carattere, siamo riusciti a prendere questi tre punti fondamentali. E' così che nasce il gruppo nelle difficoltà? Sì, sicuramente nelle difficoltà ci si compatta, ci si aiuta, tutti danno qualcosa in più e oggi l'abbiamo dimostrato in campo. A parte Tonucci vi siete resi conto che avevate una difesa che in tre non faceva 70 anni? No, in realtà non sono stato a guardare queste statistiche, comunque faccio i miei complimenti a Scalera che ha fatto una gran partita, era l'esordio e sono veramente contento per lui. Tu come ti sei visto in una posizione hai concesso poco ai tuoi avversari e pure là davanti c'erano due che facevano paura? Beh sì, abbiamo concesso pochissimo ma dobbiamo migliorare e cercare di concedere ancora di meno. I tifosi apprezzano di te questa umiltà, questa tua pacatezza, questa tranquillità, sei sempre così? Beh sì, questo è il mio modo di essere e di giocare. Ciao, ciao.